Seconda giornata di interrogatori oggi in tribunale a Pescara per quanto riguarda l'inchiesta sulla morte di 29 persone lo scorso 18 gennaio dopo la valanga che distrusse l'hotel Rigopiano di Farindola. Il primo a presentarsi questa mattina dinanzi al procuratore di Pescara Massimiliano Serpi e al PM Andrea Papalia titolari dell'inchiesta è stato Tino Chiappino, tecnico reperibile secondo il piano di reperibilità provinciale che assistito dall'avvocato Paolo Cacciagrano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha parlato invece dinanzi al procuratore al PM Mauro Di Blasio responsabile del settore viabilità della provincia che con il suo avvocato Gino Pelliccia Placido ha parlato e ha detto quello che accadde in quei giorni. Sono i tempi dell'interrogatorio ma non è stato un interrogatorio lunghissimo. Abbiamo chiarito le funzioni di compiti del Di Blasio quello che doveva fare o non doveva fare e che cosa ha fatto effettivamente. Cosa ha fatto effettivamente? È stato sul territorio a prestare assistenza alle popolazioni. Quindi voi ritenete di avere confutato diciamo così l'accusa della procura che diceva che non è stato fatto quello che si doveva fare? Il Di Blasio è stato tutta la notte sul territorio. Per voi può bastare così? Abbiamo chiarito le nostre funzioni, i nostri compiti e quello che dovevamo fare e noi diciamo che l'abbiamo fatto. L'ultimo ad arrivare in procura è stato poi il comandante della polizia provinciale di Pescara Giulio Onorati che accompagnato dall'avvocato Vincenzo Di Girolamo si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha depositato una memoria difensiva. Il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco invece così come il dirigente del settore viabilità della provincia di Pescara Paolo Dincecco hanno chiesto il differimento di alcuni giorni dell'interrogatorio per poter approfondire le carte dell'inchiesta. Domani si proseguirà sempre qui al palazzo di giustizia di Viale Lofeudo con altri interrogatori degli indagati. Toccherà agli esponenti del comune di Efarindola e tra questi sarà ascoltato il sindaco del piccolo centro in provincia di Pescara Ilario Lacchetta.